No, scusate, scusate! Scusate! E dunque noi a dici anni spegniamo con tutto il cuore. Perché qualcuno, siete tanti, sono convinta che qualcuno va a rivolgere e ci sarà, che gli può portare qualche periodo felice, perché capire che il mondo non si vede solo che non lo spazio. Carlo è un cane buono, è un cane sano e è uno dei più brevi, non comprate il cane, vi prendo e venite nel canale, vi prendo. E chi sa mai che dopo 16 anni non trovi finalmente una famiglia a conquistare per godersi la sua picchiaia. Grazie a voi.